Truffa aggravata, con queste accuse è stata data esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni immobili nei confronti di una donna in provincia di Piombino. Le indagini hanno avuto origine nel 2014 dalla denuncia presentata dalla direttrice dell'Inps di Piombino, che aveva ravvisato delle anomalie sull'erogazione di una pensione di circa 900 euro, con risposta ad una signora poi risultata deceduta da ottobre 1997 all'età di 74 anni. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno confermato l'ipotesi riscontrando che la figlia della signora parrucchiera aveva omesso di comunicare il decesso della madre, traendo in inganno l'interrogatore, continuando così a percepire mensilmente, in virtù di una delega a suo tempo conferita dal genitore, dal mese di novembre 1997 al 31 luglio 2013, la relativa pensione per un totale di 162 mila euro. La donna riscuoteva i soldi in contanti e li versava nei conti correnti dei familiari, determinando così una promiscuità patrimoniale, da cui la famiglia ha attinto per provvedere, tra l'altro, al pagamento delle rate di un mutuo contratto per un valore di 430 mila euro per l'acquisto di due villette con garage nel comune di Rosignano Marittimo.